Ma io ringrazio i giocatori, ma sono sempre loro che scendono in campo, io faccio la mia parte, cerco di spagnarli sempre e devo dire che oggi abbiamo ricordato una partita molto importante. Mi ha fatto un primo tempo non buono e tra il primo e il secondo tempo mi ero anche un po' arrabbiato con loro. Dai, cosa ha detto negli spogliatori? No, non si possono dire le cose che si dicono da lì dentro. Un facsimile. E' un luogo sacro lo spogliatoio, perciò non si dice niente, però nel secondo tempo ho visto un'altra squadra, ho visto un'altra squadra propositiva, il solito pescare che gioca a calcio, che non sta lì senza tanti fronzoli. Abbiamo meritato il pareggio, addirittura se poi dobbiamo tirare le somme, alla fine forse meritavamo qualcosa di più. Mister, non ci vuole dire cosa ha detto negli spogliatoi ragazzi del primo e del secondo tempo, però forse ci può dire che cosa si è detto con il presidente Sebastiani, perché siete tornati a braccetto dalla panchina fin verso gli spogliatoi al termine della partita. Le stava chiedendo per caso il rinnovo del contratto per la prossima stagione? No, no, era contento perché avevamo recuperato una partita importante, ma siamo già con la testa alla prossima, che è una partita... Però lei adesso vuole un po' girare la domanda, questo risultato avvicina ancora di più la sua riconferma alla prossima stagione? Eh, questo non lo so, dipende dalla società chiaramente, io cerco di fare il mio dovere nel miglior modo possibile, cerco di dare soddisfazione alla società e ai tifosi e ai ragazzi soprattutto, il mio compito è questo, poi se la società ritirà opportuno io sono qui, sono pronto a parlare, lo sapete che voi l'ho già detto più volte che a Pescara ci sto no bene di più, perciò vediamo cosa succede. Ma ripeto, poco fa il nostro microfono ha fatto capire di sì. Eh, questo mi fa piacere, con il petto ho un grandissimo rapporto, inutile negare l'evidenza e se è merito suo se sono qui, perché mi ha portato lui qua, perciò io dovrò sempre ringraziarlo per questo. Però insomma adesso vediamo, pensiamo all'Ascoli e poi vediamo la situazione. I contratti di Repetto e di Pillon scadono il 30 giugno, dovesse essere riconfermato come crediamo Repetto, la logica conseguenza sarebbe quella della riconferma dell'allenatore che ha voluto Repetto a Pescara? Eh, non lo so se è una logica, nel calcio non ci sono logiche, però io me lo auguro di tutto cuore, vediamo dai, non voglio dire niente perché non è giusto, perché non lo so e perché non abbiamo parlato di niente fino adesso. L'ultima perché dobbiamo lasciare Pillon ai colleghi, quindi il cambio per Rottacoda, chiaramente stava rischiando il secondo giallo, solo quello? Sì, sì, solamente per quello perché se faceva un altro fallo, secondo me lo buttava fuori e non ho avuto a rischiare di giocare in dieci una partita così importante. Ultimissima battuta, mister, perché sabato prossimo si gioca Pescara-Ascoli, lei è un ex allenatore della formazione bianconera, cosa pensa di questa partita? Partita che comunque dovrà regalare la salvezza al Pescara. Eh sì, è una partita molto importante per tutte e due le squadre, io ho un grandissimo rispetto dell'Ascoli, ho allenato lì tre anni, sicché non si dimentica quello che si è fatto lì, però io adesso allino a Pescara, amo questa squadra, perciò cercherò di dare il massimo per raggiungere l'obiettivo. Noi chiaramente in campo saremo rivali, ma dopo la partita tutto attorno come prima.